Ciao a tutti e bentornati a Cosmopolinerd! È disponibile su Netflix Cursed, serie fantasy tratta dal romanzo omonimo scritto da Tom Wheeler e illustrato da niente poco di meno che Frank Miller. Con la sua prima stagione composta da 10 episodi da 50 minuti cada uno, Cursed ci racconta di Nimue, questa giovane ragazza Faye che impugna, ben prima di Re Artù, la fantastica Excalibur. Preparatevi perché quando vi approccerete a questa serie scoprirete una rilettura inedita dei miti arturiani e quindi se siete fan di ciò che Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda rappresentano nelle normali leggende, ecco potrebbe venirvi una piccola sincope. Ma effettivamente potrebbero venirvi delle piccole sincopi anche per altri motivi guardando la serie targata Netflix. Certo ci sono delle cose molto interessanti e ci sono delle robe che ne parlerò più approfonditamente in questa recensione rigorosamente senza spoiler così potrete farvi un'idea da voi. Ma prima di tutto c'è una cosa che dovete fare ovvero iscrivervi al canale YouTube di Cosmopolinerd cliccando sul tastino iscriviti e attivando la campanella delle notifiche anche su cellulare che è sempre una cosa importantissima. E se volete aiutarmi a diffondere il verbo di Cosmopolinerd everywhere allora followatemi su Instagram, mettete mi piace alla mia pagina Facebook e condividete questo video in ogni dove. Bene, ciancio alle bande Excalibur! Se adesso dopo ore e ore di binge watching sfrenato mi chiedeste ma Giulia ti è piaciuta Curst oppure no? Vi risponderei con un mmmm. Per quanto abbia dei difetti piuttosto grandi Curst è una serie che si lascia guardare nel senso se avete voglia di intrattenimento senza molte pretese soprattutto dal punto di vista narrativo di caratterizzazione dei personaggi è probabilmente la serie che fa per voi. Perché sì, ci sono dei lati positivi e non è tutta da buttare. A cominciare da quello che secondo la sottoscritta è un pregio non da poco, ovvero Curst ha una trama, cosa che non si può dire di molte produzioni originali Netflix ultimamente e quindi quello già check, lo possiamo spuntare dalla lista, ce l'abbiamo. Abbiamo pure delle interpretazioni abbastanza convincenti o almeno da parte degli attori del cast principale. Catherine Langford è piuttosto convincente in quanto Nimue, certo deve ancora allenarsi un po' per diventare una eroina action credibile, tuttavia è carismatica, la sua interpretazione è decisamente non dimenticabile. Poi vorrei sprecare una parola per l'attore che interpreta Merlino all'interno di Curst, ovvero Gustav Skarsgård, il membro della famiglia Skarsgård con più talento, a parte papà Stellan. Sì, certo c'è da dire che Alexander Skarsgård ha dimostrato soprattutto in True Blood di avere dei notevoli talenti, tuttavia non nella recitazione. Anche l'aspetto visivo di Curst non è decisamente niente male, è impacchettato proprio proprio bene. L'unica cosa che bisogna vedere è che cosa c'è dentro al pacchetto, tuttavia restiamo alla superficie. Certo la fotografia è interessante, la regia pure. Ho adorato, non so, forse sapete che ho dei gusti trash, quindi potrebbe essere per quello, le transizioni animate tra una scena e un contesto e l'altro, perché effettivamente va anche a richiamare concettualmente il libro Curst, che è un romanzo sì, illustrato appunto con delle piccole opere di Frank Miller. Era un po' appunto come inserire una sorta di illustrazione all'interno anche della trasposizione audiovisiva. Inoltre non si può certo negare che Curst abbia tantissime possibilità, a cominciare appunto dalla rilettura del ciclo arturiano, che vede non più protagonista Arthur, appunto, vabbè, Artù, bensì Nimue. Nimue che all'interno del ciclo arturiano è ben presente in quanto dama del lago, però non in quanto branditrice di Excalibur. Certo, Excalibur, secondo alcune leggende, è stata proprio a lei a lanciarla fuori dal suo lago a Artù. Tuttavia, vabbè, un rapporto Nimue con Excalibur, la spada del potere, l'ha avuta anche all'interno del ciclo arturiano. Certo, si sono presi molte libertà, ma non è tuttavia un qualcosa che fa storcere il naso, almeno non alla sottoscritta, in quanto non fan integralista del ciclo arturiano. Poi, per dire, anche l'inserimento dell'elemento fantastico, i fei, appunto, chiamati all'interno di Curst, mi è piaciuto molto, soprattutto dal punto di vista della rappresentazione del diverso, cioè del diverso rispetto a chi ha deciso gli standard della normalità, quindi la persecuzione del diverso. Tematiche quanto mai attuali ed inserire tematiche attuali all'interno di contesti fantasy che avvengono ben prima dell'avvento dell'anno 1000, beh, sì, sono decisamente molto, molto interessanti e con tanto, tanto potenziale, come sottolinea anche l'ambulanza in sottofondo. Ma, essendo lati positivi, resteranno lati positivi anche quando si parlerà di come sono stati sviluppati all'interno di Curst? Purtroppo no, perché Curst è la dimostrazione lampante di quanto il troppo sia dannoso per un prodotto creativo, audiovisivo, letterario, insomma, qualunque tipologia di prodotto partorito dall'immaginazione. Perché, ok, sarà pure un modo di dire trito e ritrito che avrete sentito milioni di volte, tuttavia, è vero, il troppo stroppia. Essere ambiziosi ci sta, anzi, è quasi doveroso quando si crea qualcosa di nuovo da zero, è una delle spinte più costruttive che si possono avere. Ecco, spinta costruttiva però, non spinta distruttiva. L'ambizione, teoricamente, andrebbe imbrigliata, bisognerebbe cercare di farle percorrere una via su dei binari prestabiliti. Se invece si lascia l'ambizione libera, non so, di fare quello che vuole, rischia di diventare appunto un elemento fortemente distruttivo, un agente del caos. Caos che all'interno di un prodotto narrativo e anche abbastanza complesso, come avrebbe potuto essere Curst, è veramente la rovina assoluta. Troppa ambizione non controllata, rischia di scombinare le carte in tavola. E purtroppo in Curst è successo questo. C'erano tante tematiche estremamente interessanti, come le due che vi ho detto precedentemente, e purtroppo la voglia di strafare, la voglia di inserire un sacco di elementi, di mettere un sacco di carne al fuoco, ha fatto sì che poi alla fine niente avesse la giusta attenzione che invece meritava. Curst è sì un fantasy basato sulle battaglie, battaglie tra l'altro coreografate, che mi sembrava di guardare la spada della verità, e non è un complimento. Ma a parte, diciamo, le abbastanza brutte coreografie dei combattimenti, che sì, ci saranno due combattimenti nell'ultima puntata che si salvano tutto il resto molto molto male, e gli effetti speciali anche molto molto male, ma concentrandoci proprio sul caos narrativo in questi dieci episodi di Curst, non fa in tempo a capire in che punto siamo arrivati all'interno della storia e dello sviluppo dei personaggi e degli intrighi e delle lotte di potere e della difesa dei fei e, non lo so, dello strapotere dei paladini rossi rappresentanti della chiesa che, boom, cambia tutto di nuovo, la storia comincia ad andare da un'altra parte, ci sono dei personaggi nuovi che hanno delle spinte molto forti, ma che poi alla fin fine, dal punto di vista della trama, non servono a niente, insomma, è un casotto, un casotto con tantissime potenzialità, però. E proprio perché tali potenzialità ci sono e scorrono potenti in Curst, viene ancora più rabbia nel vedere che cosa ne è uscito, e viene ancora più nervoso quando ci si rende conto che a questa voglia di fare, di mostrare, di raccontare tantissimo troppo, si contrappone una lacuna abbastanza grande, concettualmente opposta alla voglia di strafare, ovvero il trattare il tutto con superficialità, senza approfondire quasi mai. Della serie, oh raga, c'è talmente tanto da dire, abbiamo talmente poco tempo che buttiamo lì le robe e poi le approfondiremo quando? Nella seconda stagione? Poiché in Curst gli elementi che non vengono approfonditi non sono soltanto quelli che appunto avrà senso scoprirli meglio nel futuro della serie, ma quelli che era fondamentale capire adesso perché quel personaggio sta compiendo quell'azione, perché quel personaggio sta dicendo quella determinata roba a quell'altro personaggio, perché succede questa cosa. Per esempio, i personaggi sono approfonditi pochissimo, sono caratterizzati pochissimo, si hanno tutti delle spinte nel fare robe e farne tante di robe ovviamente, ma non ci si sofferma mai ad approfondire che cosa c'è dentro la loro testa, non ci sono mai, avete presente quegli elementi che potrebbero sembrare apparentemente inutili, che ci vengono raccontati del carattere, del passato, dei pensieri del personaggio e che poi alla fine in realtà si rivelano essenziali. Non c'è niente di tutto ciò in Curst. Viene mostrato tanto, in realtà poco, perché gli elementi in gioco sono veramente un'infinità e quel poco che ci viene mostrato sapremo già che sarà utile per l'andamento della trama e automaticamente riusciremo a prevedere quasi tutti i plot twist. Eh, perché poi a volte ci sono dei Deus Ex Machina grossi come delle case che quelli sì, effettivamente si possono prevedere facilmente anche quelli, perché è tutto abbastanza scontato in Curst, non c'è niente di originale dal punto di vista della narrazione, badate bene. Viene fatto un enorme utilizzo appunto di espedienti narrativi, a cominciare dai Deus Ex Machina, andando per i twist, andando per i cliffhanger, ovvero quando finisce una scena, finisce un episodio con Oh mio Dio, che cosa succederà dopo? E avrete tantissimi episodi e quindi automaticamente questi espedienti perderanno il loro potenziale, la loro forza narrativa all'interno della storia di Curst. Secondo me, probabilmente, il più grande difetto sta in non aver spiegato bene come funziona la magia in generale nel mondo di Curst e quali effetti ha, perché uno ce l'ha e uno no, ma soprattutto non ci è stato spiegato a dovere come funzionano i fei, nel senso, perché ci sono quelli che sembrano umani e quelli invece che hanno i cornini, perché ci sono quelli che hanno poteri magici e quelli che apparentemente non ce l'hanno? Come sono nati i fei all'interno di questa terra degli uomini? C'erano prima loro rispetto agli umani? E perché ad un certo punto i paladini rossi hanno cominciato a dare la caccia a loro? Ok, si parla comunque di intolleranza da parte di estremisti, certo, ma perché proprio in quel momento lì hanno cominciato a cacciarli? Insomma, un sacco di backstory, di passato, di spiegazioni che Curst ci avrebbe dovuto dare sulla realtà dei fei, delle creature magiche britanniche e non solo, e che non c'è stato detto niente, nel senso, questi sono i fei, ve li dovete cuccare, vi devono andar bene così come sono. E se i protagonisti, ovvero i personaggi buoni, non sono stati approfonditi a dovere, pensavate che invece una sorte diversa fosse toccata ai cattivi? Sì, ovviamente no. Tutti macchiettistici, sopra le righe, che hanno delle motivazioni, noi facciamo questa cosa perché sì? Tutta roba che mi ha fatto quasi rimpiangere il cattivo di The Old Guard, film Netflix con Charlize Theron che vi ho recensito qua sopra. E quindi, nonostante tutto ciò, questi errori, questi difetti abbastanza grandi, che almeno, secondo me, la prima stagione di Cursed possiede questa serie con Catherine Langford è, non vi dico promossa, tuttavia guardabile, godibile. Certo, senza tante pretese, ma effettivamente se avete voglia di un prodotto binge-watchabile che più binge-watchabile non ce n'è, e se state attendendo la seconda stagione di The Witcher spasmodicamente, come lo sto facendo io, potrebbe essere un buon modo per saziare la vostra sete. E poco, eh, vi resterà la sete alla fine della prima stagione di Cursed. Tuttavia, dai, su Netflix c'è di peggio, molto di peggio. Se questo video vi è piaciuto, come è piaciuto, ai peluche fei alle mie spalle, allora dovete fare sempre le solite cose, ovvero mettere mi piace, lasciare un commento, e iscrivervi al canale YouTube di Cosmo Palindra ed attivando anche la campanella delle notifiche su in alto, che è sempre una cosa importantissima, altrimenti lancerò una petizione perché il crossover tra Fantagirò e la spada della verità venga realizzato davvero.